e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente dopo settimane di attesa la patch 11.20 è approdata sul nostro battle royale e con un peso che varia dai 2,3 giga fino ai 3,5 abbiamo potuto installare il nuovo aggiornamento ovviamente moltissime delle cose presenti in questa patch non sono ancora visibili in game ma i giga che abbiamo scaricato ovviamente lasciano presagire che ci sarà tanta tanta roba in arrivo anche perché ahimè hanno deciso di prolungare la season 1 dal 12 dicembre che era la data in cui doveva terminare questo primo capitolo del secondo capitolo hanno deciso di estenderla fino al 6 febbraio quindi due mesi in più per questa season in realtà non c'è da preoccuparsi che ce ne frega a parte il pass battaglia che è l'abbiamo finito e mosso cavolacci se inseriscono le cose anche nella prima nel capitolo prima season va bene uguale anche perché oramai andiamo incontro al natale quindi devono sicuramente darsi da fare nel video di oggi parleremo però del nuovo fucile d'assalto e vi farò ascoltare il suono di questa nuova arma trovata e che prestissimo arriverà ovviamente nel battle royale ma abbiamo anche degli aggiornamenti su un possibile evento a rapide rischiose che potrebbe far parte della storyline di questa season ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite volevo comunque prima ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a farmi compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro sostegno e grazie anche a tutti quelli che mi supportano con il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma prima la domandina ve la devo fare ci tengo tantissimo ai vostri commenti qua sotto anche ieri me ne avete mandati tantissimi domandina veramente facile facile ma te cosa ti aspetti su fortnite durante il periodo natalizio ovviamente io personalmente mi aspetto codename elf il nostro elfo che sono due anni oramai che non sta uscendo speriamo faccia la stessa fine della ghoul trooper e quindi arrivi in game mi piacerebbe ancora la 14 days of fortnite dove ci sono premi gratis per tutti e perché no qualche bella skin a tema natalizio non guasta assolutamente ma quindi ciancia le bande e non mi parte il coso e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare velocemente di questa patch 11.20 dove possiamo notare subito in alto il ritorno delle skin delle sfide giornaliere queste permettono ovviamente di guadagnare punti esperienza un gradito ritorno almeno da parte mia perché ci mancavano anche se le sfide settimanali sono tante avere quelle giornaliere è comunque un input in più per aprire il gioco e giocarsi un paio di partite abbiamo anche un nuovo filtro di ricerca per quello che vogliamo praticamente nel nostro armadietto basta semplicemente scrivere la season quindi stagione 5 stagione x stagione 1 e verranno selezionati tutti i componenti che tutti i cosmetici tutti gli outfit tutte le le cose i picconi della season in questione quindi molto interessante anche questa funzione per facilitarci la ricerca modifiche anche per quanto riguarda il contrasto nell'interfaccia utente potete migliorare appunto la qualità visiva e comincia il supporto per la direx 12 io momentaneamente vi dico se funziona bene non scaricate nulla è ancora in beta la direx 12 vedremo più avanti ovviamente quando sarà il momento di sistemarla hanno risolto anche dei problemi innanzitutto torna finalmente lo sparabende potete completare la missione per portarvi a casa l'outfit secondario della skin medica adesso io non ricordo il nome esatto hanno risolto un problema relativo allo slot oggetto equipaggiato che risultava come slot di selezione quando i giocatori aprivano l'inventario quindi non vi incastrate più nel selezionare nel riordinare le cose i capelli del costume devastatore adesso sono del colore previsto e la pistola del costume di john wick non è più grande del previsto quindi piccoli bug fixati che sicuramente sono graditi e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi rischi reels rapide rischiose in italiano un ritorno che c'è stato in questo capitolo 1 una delle city che hanno caratterizzato la prima parte volevo dire prima capitolo 2 che hanno caratterizzato la parte del capitolo 1 di fortnite perché rischi reels nonostante abbia già avuto settimana scorsa se non ricordo male una roba strana il maxi schermo si è illuminato con il classico lama salterino è durato veramente poco beh sono stati trovati nei file di gioco delle immagini molto interessanti che vanno a associarsi a un possibile evento la prima è questo camion tutto squadrato ovviamente perché non è ancora renderizzato al cento per cento questo camion piano piano e vi posso già dire fino al primo gennaio 2020 porterà via le macchine da rapide rischiose non si sa bene il perché le tolgano tutte questa è solo una delle immagini ce ne sono tre le trovate comunque sulla mia pagina di instagram se volete vederle è tutte e tre le macchine verranno rimosse dal dalla location di rapide rischiose e chissà che questo non sia un evento oppure qualcosa relativo alla storyline non avrebbe senso che fanno queste cose visto che hanno due miliardi di bug da fixare aspettiamoci davvero tutto e speriamo che sia in realtà l'evento e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi alle mie spalle il nuovo fucile dovrebbe essere fucile d'assalto pesante se volessimo utilizzare il nome in italiano come vedete in due varianti epica e leggendaria entrambi utilizzano chiaramente i colpi medi 2,66 secondi il tempo di ricarica per la versione epica 2,52 per la versione leggendaria 25 il caricatore e il danno al giocatore è 44 sempre per la prima versione e 46 per la seconda voglio però farvi sentire l'audio ufficiale di questo nuovo fucile lo faccio di sentire colpi molto lenti insomma ragazzi una nuova arma ci sta ci sta tutta avere finalmente un po di freschezza soprattutto nel comparto armi non vedo l'ora di vederlo insieme e ovviamente lo proveremo e vedremo un po se hanno fatto bene o se hanno fatto male e siamo arrivati alla fine del video anche per oggi ragazzi ultima informazione arriveranno nuovi premi per chi guarda fortnite su twitch non si sa orca miseria al microfono non si sa dove cavolo mai se sarà un pacchetto twitch prime come già è stato e precedentemente nelle scorse season per adesso nel game è presente nei file di gioco gb twitch promo congratulation thank for watching fortnite on twitch quindi o c'è un evento relativo tra twitch e fortnite che regalerà qualcosa o altrimenti dovremmo semplicemente attendere io ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video anche di oggi mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo in live su twitch alle 8 ciao 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 ciao